La politica nel centro-sinistra prosegue il braccio di ferro tra i filmatari e i filmatari del documento a favore delle primarie e i contrari, intanto fissata la procedura per la consultazione allargata per la scelta del candidato governatore, candidatura entro il 26 gennaio. È il giorno dell'assemblea con i lavoratori della Ferro Sud, si discute del contratto di solidarietà chiesto dalla proprietà a causa della mancanza di nuove commesse, i 90 dipendenti potranno vedersi ridotti gli orari di lavoro anche del 48%. L'Irks Club festeggia un traguardo importante, quello dei primi dieci anni da istituto di ricovero e cura, carattere scientifico, nell'auditorio in cervellino dell'istituto, l'evento istituzionale celebrativo dell'anniversario nella giornata di ieri. Per l'Olimpia Matera inizia con una sconfitta la fase di ritorno del girone D di Serie B nel posticipo serale di domenica scorsa a Palacala Fiore, i materani sono stati superati dalla Viola Reggio Calabria per 77 a 58. Buongiorno dalla nuova TG, in apertura c'è la maxi operazione contro il caporalato, nel Materano 14 le misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della procura ed eseguite dai carabinieri. Il servizio è di Fabrizio Di Vito. Nel mirino degli inquirenti è finito un traffico internazionale di lavoratori reclutati in Romania e fatte arrivare in Italia per essere sfruttati nei campi del litorale ionico lucano. E' quanto è stato illustrato in una conferenza stampa nella sede della procura di Matera dove sono stati riportati i dettagli della maxi operazione anti caporalato condotta dai carabinieri. Sono 14 le misure restrittive di cui 12 arresti disposti dalla GIP di Matera su richiesta della procura al termine di mesi di indagini che hanno portato alla scoperta di un giro illegale che dal 2014 al 2018 avrebbe gestito quasi 1.400.000 euro. I lavoratori sfruttati sono stati oltre 200. Sono finiti in manette tra gli altri quattro titolari di aziende a ortofrutticole di Scanzano e Policoro insieme a due loro collaboratori, una donna rumene e un funzionario del comune di Scanzano. Le indagini sono partite da una denuncia presentata da un lavoratore rumeno che si era rivolto all'ambasciata della Romania in Italia e poi i carabinieri di Policoro ha raccontato di essere arrivato in Italia anni prima dopo aver letto un annuncio di lavoro su Facebook, poi la scoperta di condizioni di lavoro massacranti con una paga di 3 euro all'ora per non meno di 14 ore al giorno e alloggio nelle baracche. Le indagini sono state portate avanti da 100 carabinieri con le unità cinofile e un elicottero. Non sono esclusi ulteriori arresti. E in merito all'operazione la Will Basilicata precisa che tra le persone indagate risulta un ex dirigente locale della Willa, l'organizzazione di categoria dei lavoratori agroalimentari forestali che si è dimesso da tempo da tutti gli incarichi ricoperti e che pertanto non fa più parte a nessun livello dell'organizzazione. In attesa che le indagini accertino ogni responsabilità e che il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura prosegua, la Will ribadisce il proprio impegno per ogni azione necessaria al contrasto del caporalato. E adesso la cronaca giudiziaria all'inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità. Il gruppo di Matera Angelo Norati ha fissato per il 12 aprile la prima udienza preliminare del processo in cui saranno discusse le richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla procura di Matera nei confronti di decine di imputati, tra i quali figura anche il governatore lucano Marcello Pittella, ancora sottoposto al divieto di dimora e sospeso dall'incarico per effetto della legge Severino. E adesso passiamo alla politica. Dopo la rottura tra i due poli del centro-sinistra, ieri si è tenuta la prima riunione tecnica per fissare i punti organizzativi delle primarie. Il servizio è di Celestino Benedetto. Il primo punto fermo è stato fissato con il tavolo tecnico chiamato a redigere la proposta di regolamento per le primarie. I firmatari del documento, favorevole alla consultazione aperta per la scelta del candidato presidente delle coalizioni, si sono rivisti nella sede del PSI. Tra gli aspetti discussi è emersa unanime la necessità di fissare al 26 gennaio la data ultima per la presentazione delle candidature. Il tavolo si è aggiornato a venerdì per la definizione delle modalità organizzative. Nel frattempo è ancora gelo tra i due fronti della vecchia coalizione, con una guerra di tatticismi che viaggia sotto traccia tra le due compagini. I firmatari del documento pro primarie, il PD della maggioranza vicino al segretario polese e al presidente Pittella, il Partito Socialista, Realtà Italia, Progetto Popolare e i Verdi, è quello dei contrari all'ipotesi del bagno di popolo, per la scelta del candidato presidente. MDP è parte dei dirigenti del PD Lucano, tra cui il senatore Margiotta, Valluzzi, Spada, Lacorazza e Santarsiero. Il gruppo MDP e critici del PD contesta ai fedelissimi di Pittella la volontà di ripresentare la candidatura alla presidenza del governatore uscente, attraverso le primarie o fine dei giochi. Dall'altro versante, invece, le primarie vengono considerate come un paracadute, ma la linea principale resta la ricerca della sintesi anche senza primarie. Il timore che affligge la maggioranza DEM è che l'invocazione di un tavolo romano voluto da MDP possa servire come giustificazione per la candidatura dell'On. Roberto Speranza, considerata dai Pittelliani inaccettabile. E intanto, venerdì 18 e domenica 20 gennaio, si terranno le assemblee provinciali di articolo 1 MDP di Potenza e Matera per discutere sulle elezioni regionali, per esaminare, come si legge in una nota, la situazione politica a Lucana, con particolare riferimento alle imminenti elezioni regionali. Anche nel centrodestra sono ore di trattative per la scelta del candidato alla guida della coalizione. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parla delle prossime elezioni regionali in Basilicata e si rivolge alla Lega. L'alternativa sempre più attuale, dice il numero 2 di Forza Italia, è un'alleanza di centrodestra, governiamo insieme in tante regioni, andiamo assieme in Abruzzo, Sardegna e Basilicata. La tappa delle regionali in Abruzzo e Basilicata viene considerata dai vertici di Forza Italia come un test per accorciare le distanze con Salvini a partire dal sud. Dalla Basilicata arriva intanto la proposta dell'esponente di Fratelli d'Italia, Alessandro Galella, che propone anche per la coalizione di centrodestra le primarie. Il centrodestra appare orfano di una leadership carismatica, scrive Galella in una nota. Invito tutti i vertici dei partiti a sottoscrivere un documento da portare a Roma in cui si chieda che il candidato presidente venga scelto dai Lucani. Meno consumi idrici entro l'anno e la mission di Acquedotto Lucano per il 2019, ieri mattina a Potenza, l'Assemblea degli azionisti. Michelangelo Russo. Si è svolta l'Assemblea degli azionisti di Acquedotto Lucano che all'unanimità ha approvato il programma delle attività di gestione degli investimenti, nonché gli obiettivi da perseguire nel corso del 2019. Ai lavori hanno partecipato il rappresentante della regione Basilicata e i sindaci dei comuni soci, in rappresentanza del 65,6% del capitale sociale, presente anche l'amministratore dell'Egrib Nicola Cicoria. Nel corso del suo intervento invece l'amministratore unico di Acquedotto Lucano, Gian Domenico Marchese, ha tracciato le linee programmatiche e le dell'azienda definendo gli obiettivi per il prossimo anno. Tra questi l'amministratore unico ha indicato la significativa riduzione dei consumi idrici e di conseguenza energetici sulle reti di distribuzione di 17 abitati con l'obiettivo di ridurre del 10% i volumi di acqua immessi in rete rispetto all'anno precedente. Un'attività, ha spiegato Marchese, che potrà essere espletata attraverso una campagna di ricerca perdite programmata con la sostituzione dei tratti di rete più obsolete, l'utilizzo di apparecchiature e di regolazione per evitare gli eventuali sfiori e la riduzione delle pressioni di esercizio anche ricorrendo alla distrettualizzazione delle reti. L'obiettivo di riduzione dei consumi potrà essere conseguito anche grazie a investimenti che trovano la copertura economica nella tariffa del servizio idrico integrato 6 milioni di euro per migliorie su reti idriche, fognarie, adeguamenti e messa in sicurezza delle opere gestite. Benefici significativi in favore degli utenti, del mondo delle imprese e per il rispetto delle prescrizioni contenute nella carta della qualità del servizio sono attesi infine grazie anche alla nuova piattaforma informatica attualmente in corso di implementazione. Vertenza Ferro Sud, i sindacati hanno convocato per oggi a partire dalle ore 14 l'assemblea con i lavoratori, si discute del contratto di solidarietà chiesto dalla proprietà a causa della mancanza di nuove commesse, i 90 dipendenti potranno vedersi ridotti gli orari di lavoro anche del 48%, intanto la CGL chiede che la trattativa si svolga al Ministero del Lavoro. Ieri l'amministratore unico ha annunciato di aver aperto le procedure per il contratto di solidarietà che riguarda 74 operai e 16 impiegati della storica azienda materana ai quali verranno ridotti gli orari di lavoro. Una mossa spiega la proprietà nella missiva diretta ai sindacati presa per garantire la funzionalità dello stabilimento di Jesce e contemporaneamente evitare i licenziamenti collettivi. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. I nuovi impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. I nuovi impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu, mail info chiocciola noveimpiantipotenza.eu. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Natura Amica, non solo bruschette, pronti all'uso da spalmare o per condire ogni tuo piatto. Natura Amica, non solo bruschette, gusto e sapore di un prodotto lucano. Scopri tutte le ricette su nonsolobruschette.it Natura Amica, non solo bruschette, chiedilo al tuo supermercato. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG ancora con la cronaca. Sindacale, le RSU di Fim e Fium hanno proclamato due ore di sciopero a fine turno per le giornate di ieri e oggi alla Ingegneria Italia, ex Blutec, azienda metalmeccanica di Tito che opera nell'indotto FCA. Le due sigle sindacali accusano l'azienda di non fornire adeguate informazioni ai lavoratori su buoni pasto, stipendi, sicurezza, contributi ai fondi complementari, lavorazioni e investimenti. I delegati sindacali di Fim e Fium accusano inoltre l'azienda di voler prendere tempo per giungere alla fantomatica cessione, ipotesi che secondo i sindacati ormai dura da anni e sta procurando una situazione di abbandono dei lavoratori e della propria dignità e sicurezza. Le RSU di Fim e Fium si dicono indisponibili a concedere ulteriore tempo e hanno pertanto deciso di proclamare lo sciopero a ogni fine turno senza escludere ulteriori azioni nei prossimi giorni. Ieri a Rio Nero giornata di celebrazioni per i primi dieci anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico del CROB, una storia iniziata nel 1987, ripercorriamola con Alessandro Panuccio. L'IRCS CROB festeggia un traguardo importante, quello dei primi dieci anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, nell'auditorium cervellino dell'istituto l'evento istituzionale celebrativo dell'anniversario. Un traguardo non scontato. Tutti gli istituti infatti per mantenere lo status del carattere scientifico conferito dal Ministero della Salute sono sottoposti a verifiche approfondite ogni due anni e ad ogni verifica c'è la possibilità che il carattere scientifico sia revocato. Tre le site visit ministeriali in questi anni nel 2013, nel 2015 e nel 2018. Celebriamo i dieci anni di riconoscimento del carattere scientifico del nostro istituto e tutta la comunità regionale che oggi è in festa per il successo, per una storia di successo che è la storia di questo istituto, che ha ricevuto il primo riconoscimento nel 2008. Ma la storia del centro di riferimento oncologico di Basilicata non parte dal 2008 ma affonda le sue radici nel piano sanitario regionale del 1987 e nella lungimiranza della legge regionale numero 13 del 23 maggio 1989 che sancisce di fatto la nascita del centro di riferimento oncologico di Basilicata. L'inizio ufficiale delle attività oncologiche si ha nell'aprile 1998 con l'autonomia gestionale segnata dal passaggio dell'ospedale dalla direzione USLU1 alla direzione CROB. È la comunità professionale di questo istituto a cui noi diciamo un doveroso grazie alle donne agli uomini che ancora oggi lavorano e che sono succeduti nel tempo perché grazie alla loro fatica, al loro sacrificio, al loro averci creduto fino in fondo che oggi siamo in grado di celebrare questo successo. Oggi l'istituto tra l'altro è socio fondatore insieme all'istituto pascale di Napoli e al Giovanni Paolo II di Bari dell'alleanza mediterranea Oncologia in Rete per la costituzione di un nuovo modello di cure in oncologia e per abbattere il fenomeno dei viaggi della speranza verso il nord. La costituzione della rete Amore, oggi consorzio, è uno dei punti di forza messi in rilievo dall'ultima visita ministeriale e il futuro si prevede pieno di progetti per il CROB, a cominciare dalla costruzione della nuova palazzina antistante l'istituto che ospiterà la diagnostica per immagini e il Day Hospital, ma intanto l'istituto si gode i festeggiamenti per il suo meritato compleanno. Buone notizie per gli agricoltori colpiti e per le loro aziende saranno trasferiti 2,2 milioni di euro alla Basilicata per i danni causati dalla tromba d'aria del 14 luglio e del 29 agosto 2017. Il Dipartimento Agricoltura procederà con l'istruttoria delle 158 domande presentate per pubblicare nelle prossime settimane la graduatoria provvisoria delle aziende che beneficeranno del sostegno nazionale. Lo rende noto l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia. Si tratta delle disponibilità per il 2018 del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli interventi compensativi dei danni e a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e d'avversità atmosferiche. Il fabbisogno dei danni alle strutture accertati solo in Basilicata per le avversità climatiche straordinarie dell'estate 2017 è pari a 14 milioni di euro. Hanno presentato domanda per il ristoro 158 aziende agricole ricadenti in 17 comuni della provincia di Matera e in 18 comuni della provincia di Potenza. E adesso passiamo al basket. Inizia col piede sbagliato il girone di ritorno dell'Olimpia. Matera battuta a Reggio Calabria con un passivo di 19 punti. Vediamo risultati classifiche e il servizio di Luigi Santopietro. I risultati della sedicesima giornata di Serie B girone D. Viola Reggio Calabria batte Olimpia Matera 77 a 58, Iul Roma Bava Pozzuoli 68 a 67, Alfa Catania Capodorlando 81 a 90, Gevi Napoli Luis Roma non disputata, Deco Caserta Virtus Salerno 74 a 72, Valmontone in più Roma 60 a 81, Battipaglia Palestrina 54 a 99, Global Scauri Grin Palermo 87 a 81. Nella classifica vede sempre in testa la Deco Caserta a quota 30 seguita dalla Virtus Salerno a 26, Matera si fa raggiungere al terzo posto a quota 24 dal Palestrina, Viola Reggio Calabria a quota 21, in più Roma a 20, Luis Roma 18, Global Scauri 16, Napoli, Roma e Capodorlando a 14, Palermo, Pozzuoli e Valmontone a quota 8, Alfa Catania a 6, chiude Battipaglia ancora 0 punti. Per l'Olimpia Matera inizia con una sconfitta la fase di ritorno del girone D di Serie B. Nel posticipo serale di domenica scorsa il pala Calafiore e i materani sono stati superati dalla Viola Reggio Calabria per 77 a 58. La partita inizia subito in salita per i Biancazzurri 21 a 16 al primo quarto, per poi assumere una condizione di equilibrio, pari 19 nel secondo. Dopo l'intervallo i locali lanciano un definitivo a lungo, 20 a 11 nel terzo, per poi amministrare agevolmente il vantaggio dell'ultima frazione di gioco chiusa 17 a 12. Il totale è impietoso per i Biancazzurri che si arrendono 77 a 58, un passivo di 19 punti piuttosto eloquente. Un confronto di difficoltà estrema nei primi due quarti nel quale l'Olimpia riesce a rimanere attaccata alla partita, invece nel terzo quarto il roster materano si disunisce non riuscendo a imprimere il ritmo giusto per andare in attacco anche per mancanza di lucidità. L'ultima frazione non ha storia, i giochi si compiano contro una squadra indigesta costruita per lottare ai vertici della categoria. Dei giocatori dell'Olimpia hanno raggiunto la doppia cifra Daniele Merletto, 10 punti, ed Enzo Sena in doppia-doppia con 20 punti e 11 rimbalzi. Le percentuali di tiro del roster di Matera sono state del 41% nei tiri dall'area, del 24% in quelli dall'arco e del 67% in quelli dalla lunetta. Nella classifica del girone D, dopo i primi 16 incontri del torneo, la formazione materana mantiene il terzo posto con 24 punti. Alle spalle di Caserta, 30, che ha vinto per 74 a 72 lo scontro diretto con la seconda a Salerno, quota 26, e viene agganciata da Palestrina, uscita vincente dalla trasferta di Battipaglia. E da oggi riprendono le nostre rubriche con la nutrizionista Mare Angela Albano avvia le nuove puntate di Mediterranea. Non perdete l'appuntamento di oggi con la nostra trasmissione dedicata all'alimentazione sana. E per questa edizione è tutto e vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.